E' morta Franca Rame, il ricordo di Marco Travaglio, Furio Colombo e altre firme del Fatto Quotidiano in edicola. Tempo scaduto per i portavoce dei parlamentari 5 Stelle. Tra pochi giorni Roberta Lombardi e Vito Crimi non saranno più i capogruppo rispettivamente della Camera e del Senato e ci saranno sostituiti da altre due persone. Per la Camera si è già deciso, per il Senato invece è proprio in corso l'elezione del successore di Crimi. E su chi sarà si dibatte a lungo perché bisognerà scegliere un'anima dialogante oppure un duro e puro in edicola. Ve lo raccontiamo. Un disperato alemanno cerca anche sponde dall'altra parte del Tevere. Cosa farà il Vaticano? Darà un sostegno forte all'ex sindaco, diciamo sindaco uscente, che deve recuperare 12 punti contro il chirurgo, cattolico, cattolico adulto, marino? Oppure stare a guardare perché la partita è recuperabile? Tutto questo in edicola sul Fatto Quotidiano.